LA DOLCE OLIVIA Lo sai che Olivia è innamorata del tuo ragazzo? No, non lo è. La fai finita. Ehm, Penelope? Obbligo. Baciati con Olivia. Facciamo decollare questa festa. Stringila. Carter. Verità. Quali sono le tue intenzioni con la nostra dolce Olivia? Dovevo trovare una ragazza con amici da ingannare e far venire qui. Diciamo che Olivia è stata una preda facile. Vi ho portato qui perché mi sta bene che degli estranei muoiano pur che io possa vivere. Che diavolo fai? Il gioco è vero. Ovunque andrai, qualsiasi cosa farai, lui ti troverà. Stai bene? Sì. Accadono cose strane da quando siamo tornati dal Messico. Vai, piantala. Dico sul serio, io vedo delle cose. Obbligo o verità? Obbligo. So che sembra assurdo. Giusto un po'. Questa bella ragazza qui mi ha sfidato a mostrare il mio campionario. Già visto, poco interessante. Carter ha detto, di la verità o morirai. Accetta la sfida o morirai. Rifiuta il gioco. Sapete che vi dicono? E morirai. Non siamo noi a giocare. È lui che gioca con noi. Che possiamo fare? Scegliere sempre verità. Obbligo verità! Marky tradisce Lucas di continuo. Lucas, aspetta. Mi dispiace. Toccami ancora e te la spezzo la mano. Verità. Non è così che funziona. Sono un gioco decide. Spezza la mano di Olivia. Lo devi fare. Per quanto ora sia arrabbiata con te, non esiste che io ti spezzi una mano. Marky, non hai altra scelta. E dai, fallo! Il gioco è troppo furbo. Metà delle persone in questa foto sono morte. Dobbiamo scoprire com'è iniziato. Come si esce vivi da questo gioco? Non si esce. Non prima che tutti i giocatori siano morti. E adesso tocca a te. Sfidami a scegliere chi ti vuoi uccidere. No! Obbligo verità. Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog, blog.screenweek.it. Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!